Siamo tornati per andare immediatamente allo Juventus Stadium e gustarci almeno una parte della sintesi di Juventus Lazio con Stefano Bizzotto. Spera la sintesi, una mini sintesi propostaci da Stefano Bizzotto, ovviamente fra poco quella più ampia di Juventus Lazio, più ampia esattamente come quella che ci propone Fabrizio Failla perché si è giocato anche Napoli-Milan. La partita è terminata 2-2, noi andiamo a San Paolo. Gli ospiti in studio, la prenda con un po' di filosofia e di ironia, ma la sua sfuriata quando ha detto se andiamo avanti così andiamo in B, bisogna insomma reagire, siamo un po' troppo molli eccetera eccetera. A questa sfuriata c'era presente solo il Sharawi? Bentornati a Sabato Spring, Juventus Lazio è terminata 0-0, Napoli-Milan 2-2, noi andiamo subito al volo a San Paolo dove c'è Gianfranco Coppola con Abbiati. Gianfranco a te, lo ringraziamo anche Gianfranco Coppola. Chiudiamo Sabato Spring su Rai 2, ci trasferiamo, ci trasformiamo, no, ci trasferiamo su Rai Sport 1, canale 57 del Digitale Terrestre. A tra pochissimo, grazie agli amici di Rai 2.